La sensazione è umida, te lo dico già subito perché l'ho già visto prima. Quanto devi fare? Sono già di traverso, non c'è un'amicità. Strettissimo. Troverso subito, bravo. Non freni mai praticamente. Io no. Hai una grande sensibilità. Sì, ma ce ne è entrato qualche cosa di controllo. Ti sei rimesso il DSC? Sì. Tremati un attimo e tieniti. Ok. Benissimo. Che mostri hai? Non lo so, fai in automatico. Qua piano, dai un po' di gamba. È stato un po' troppo forte. Eh sì. Sembra un birillo. Extra tour. Uno. 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 Non è facile, ma mi diverto. Qui giusto è un filo di gas e tutto quanto stanza contro stanza. Sì, perché volevo provare a farla raccordata tutto in uno. Quello è il pezzo più difficile, quindi non andare con troppo gas all'uscita del tornato. Ok, va bene. Vai! Questa roba qua è una figata pazzesca. Sì, è veramente bello. Perché c'è la macchina che pattina, cioè che va via proprio in slide. Che figa! È un piacere. A parte che adesso c'è Birillo in mezzo a Naroni. È preso. Era lì in traiettoria. Non andiamo via. Non andiamo via. Ecco, molto bene, Max. Grazie. Un altro giro. Bravo. Questo è il mio pane, cioè. C'è il mio pane. È perché io sono avvitato al trazione anteriore, non al trazione. Ah, capito. Un berillone. Diciamo che è come girare con il freno a mano tirato sui piazzali. Io l'ho sempre fatto. Certo. Questo che è? Bravo. Ti ho voluto non parlare e ci sei riuscito. Ok. Fai l'ultimo giro. Va bene. Poi riesci. Ok. Mi sembra divertente, eh? Molto. Ricordati. Guardare dove vuoi che vada l'auto. c'è un po'. Hai schifo tutti i piedi? È andata bene. Ricordate di non frenare mai. Ah, devi mai frenare. Bravo, bravo. Sì. 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 Se tieni questa ritmo, va benissimo. Sì. Sembra il cambio automatico facile. Mi sono divertito da impazzire. È vero? Sembra facile il cambio automatico. Ma tocca prenderci il via. Sì che sono di traversa anche qua. Non sa N. N?